Oggi in aula arriva il decreto sull'emergenza rifiuti in campagna. Com'è la situazione a Salerno? Tra l'altro lei domani sarà in audizione. Grazie al Presidente Caldoro, con ordinanza che ha sbloccato l'utilizzo delle discariche rimaste aperte tra Caserta, Avellino e Benevento, la provincia di Salerno ha ripreso a respirare. Stiamo svuotando sia Sardone, che era un sito di stoccaggio provvisorio, sia la struttura di lavorazione dei rifiuti che si chiama Stir, che è a Battipaglia. È chiaro che è un provvedimento tampone, è necessario aprire dei siti di discarica comprensoriale per quanto riguarda la provincia di Salerno, è necessario che Napoli inizi a fare la raccolta differenziata. Ricordo che la provincia di Salerno da oltre dieci anni è la quarta in Italia per raccolta differenziata, quindi siamo una provincia virtuosa, abbiamo aperto ben tre discariche saturate dai rifiuti napoletani, stiamo facendo con i poteri ordinari un termo valorizzatore, ciò che Napoli non è riuscito a fare, mentre invece è stato il governo Berlusconi che con la forza praticamente ha fatto il termo valorizzatore ad Acerno. Un terreno di scontro è stato proprio il trasferimento dei rifiuti fuori regione. Passato il problema era il trasferimento del rifiuto tal quale, su questo credo che hanno ragione le ragioni ma anche la Lega quando dicono che i rifiuti non trattati devono rimanere a casa di ognuno, ma i rifiuti lavorati è giusto che possono essere trasportati. Oggi i rifiuti speciali, radioattivi, quelli degli ospedali, le pile, le batterie vengono lavorati per esempio al nord e vengono portati in Campania, quindi i rifiuti speciali possono essere trasferiti senza accordo tra le regioni con chi è autorizzato a smaltirli con le società private specializzate.